Inizia la seconda edizione del Festival del Pensiero Scientifico, apriamo la mente, promosso dalla regione e toccherà tutti i capoluoghi di provincia. Mario Bacianini. Viaggio nel tempo, dalla nascita dell'universo a quella della vita e dell'uomo, prende avvia la seconda edizione del Festival del Pensiero Scientifico, promosso dalla regione Lazio e presentato dagli assessori regionali alla cultura Giulia Rodano e alla ricerca e innovazione Claudio Mancini. Dieci giorni di mostre, conferenze e laboratori didattici con ospiti quali i premi Nobel Rita Levi Montalcini e Carlo Rubbia, il filosofo Giulio Giorello e l'astronomo Franco Pacini. Un grande evento che si estende a Raggera in tutte e cinque le province del Lazio e dà il suo fulcro a Roma nel complesso del Vittoriano dove è stata allestita una mostra sulla nascita del cosmo e la formazione della Terra fino all'avvento dell'uomo, dai primi omini di 7 milioni di anni fa all'Australopiteco, dall'uomo habilis che visse in Etiopia 3 milioni di anni fa, fino all'uomo sapiens comparso 200 mila anni fa. Ci sono mappamondi che illustrano la formazione delle masse continentali che già 90 milioni di anni fa cominciavano ad assumere le forme che oggi conosciamo. Le sonde spaziali come Rosetta, lanciate nel cosmo per studiare le comete, e le sfere al plasma, un gas composto da particelle elettricamente caricate che è alla base delle tecnologie di fusione nucleare come degli schermi dei nuovi televisori. Un viaggio nel tempo e nello spazio ancora in gran parte misterioso, costituito al 95% di materia ed energia oscure delle quali non sappiamo quasi nulla. Ed ora il calcio, domani penultima giornata.